E' il mercato ad essere sempre in primo piano in attesa che le squadre di Lega Pro ritornino ad allenarsi. Il Catania non fa eccezione, sono tanti giocatori rossazzurri che devono fare i conti con le voci che riguardano il loro futuro. L'ufficialità di Piscitella al Prato è di fatto sbloccata a rivi e partenze. Il Mantova ha bussato alla porta del Catania per Bastrini e anche per Calil sul quale si stanno concentrando le attenzioni di tante squadre. C'è anche il Padova, intimorito però dall'ingaggio del giocatore e da ultimo il Lecce è deciso a migliorare il suo già forte assetto offensivo per tentare l'assalto alla Serie B. In cima ai pensieri di Paolucci invece c'è sempre il Catania, nonostante le offerte di Andri e San Benedettese. Tra i difensori quasi certo l'addio anche di De Rossi e Nava, mentre a centrocampo fornito è richiesto dal Messina che ha fatto un soddaggio anche per un attaccante tra Anastasi e Paolucci da inserire magari in uno scambio con Pozzo e Bonn, ma l'attaccante giallorosso non scalda tutti i cuori a Torre del Grifo. Capito la parte meritano Lodi e Marchese, entrambi sarebbero colpaci dettati dall'affetto per la città e i colori, ma attualmente sono fuori portata. Hanno offerte importanti da squadre di categoria superiore e un loro arrivo in rosso-azzurro potrebbe materializzarsi solo in extremis se non raggiungessero nessun altro accordo.